Il tempo è abbastanza, il luogo è ristretto ma servirà sicuramente un microfono. Benvenuti, è un piacere avervi qua all'Apollo, l'argomento è assolutamente di attualità, abbiamo il piacere di parlare della musica italiana all'estero, è un report che è stato preparato, ne parleremo oggi con degli attori di cui sono protagonisti di questo report ma dello stato della musica italiana all'estero. C'è con noi Nura Malbash, direttrice della fondazione italiana Music Lab, Enzo Mazza, CEO di Fimi, Francesco Pasquero, Artist Manager Maverick e Matteo Fedeli. Sono un po' emozionato perché è la mia prima volta che faccio il panel della Milano Music qui quindi sono molto anche contento. Un applauso allora, dai. Davvero, ci tenevo, peraltro un argomento interessantissimo. Filippo La Rosa, capo ufficio promozione culturale, istituti italiani di cultura, ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Una nomenclatura un po' lunga, però molto strategica, poi ne parleremo perché gli istituti di cultura italiani sono un punto molto importante in questo argomento. Il vaso di Pandora di tutta questa questione sicuramente sono stati Moneskin. Io lo pronuncio con la dizione danese, ho una compagna danese, quindi mi piace dirlo proprio così. È un po' come c'era quella lotta tra Bowie e Bowie. Io preferisco dire Moneskin. Sono stati sicuramente, come dicevo, un vaso di Pandora perché hanno scoperchiato con il fenomeno e il loro successo quello che è la percezione della musica italiana all'estero. Ma in realtà è un processo che avviene da anni e soprattutto con gli attori che sono qua sul palco. Un grande lavoro non solamente di promozione ma di connessione, di interazione con le istituzioni, con le nazioni, con l'industria. La percezione quindi è nuova, è interessante perché al di là della musica e del rock per atto un genere che noi non ci sognavamo mai, che avesse così tanto successo come è stato il caso dei Moneskin, in realtà dietro di questo c'è tanta musica italiana interessante. All'estero come per esempio tutta la scena elettronica con una varietà enorme di artisti che vanno dalla scena della techno che da tanti anni sono protagonisti nel mondo della musica internazionale. Oppure se vogliamo essere ancora più storici l'italo disco. Questa giacca potrebbe essere anche un po' un omaggio a Gazibo, a Dolce Vita, a quel mondo. Ma non solo, il bel canto. Abbiamo un protagonista come Francesco Pasquero che segue il passo dopo passo, località per località intorno al mondo, di Bocelli e tutta la famiglia in questo momento. L'abbiamo visti qua presentati proprio all'inizio della Milano Music Week. Noor, noi diciamo che forse è il caso di cominciare a parlare un po' di questo report perché è molto interessante. Penso che molti di voi sono curiosi di sapere anche un po' di nomi di quelli che sono i principali protagonisti dei giovani e delle star nel campo internazionale. E poi entreremo un po' più nello specifico facendo un dialogo a cinque. Sì, diciamo che questo report che oggi ne parliamo in anteprima ma verrà pubblicato tra circa 15 giorni è un po' la scusa per parlare di export di musica italiana. Oggi pomeriggio alla Music Week abbiamo parlato praticamente solo di questo e quindi chiudiamo con una panoramica anche su quelli che sono i dati. Perché ne sto parlando io? Perché la struttura che dirigo che si chiama Fondazione Italia Music Club è una struttura creata da SIAE che da ormai tanti anni, dal 2017, lavora verticalmente sull'export della musica italiana. E abbiamo quindi un ufficio preposto che collabora con etichette major, con etichette indipendenti, con agenzie di booking, con management, con artisti appunto da quelli più famosi come Madame fino all'artista indipendente che fa tutto da solo. Con questa struttura noi supportiamo le aziende e gli artisti italiani all'estero sia a livello economico, quindi offriamo rimborsi spese, paghiamo voli, hotel, regaliamo biglietti ai professionisti per partecipare agli eventi internazionali chiave dove si decidono un po' le sorti della musica o dove banalmente si fa business e sia facciamo un lavoro molto importante di consulenza. Sono delle consulenze assolutamente gratuite che offriamo a tutta questa panoramica di professionisti della musica in Italia a seconda delle loro esigenze. Ovviamente con il team di Madame faremo un discorso estremamente diverso rispetto all'artista che fa musica elettronica o musica tecno e va all'Amsterdam Dance Event. Abbiamo un team che negli anni si è specializzato in questo e quest'anno per la prima volta dal 2017 abbiamo pensato di redigere un report che non ha un metodo estremamente scientifico, nel senso ci sono dei dati e sono assolutamente certificati da FIMI e da SIAE e tra poco ne parleremo, ma all'interno volevamo fare proprio una panoramica di qual è l'attualità della musica italiana all'estero e quindi abbiamo anche all'interno del report degli editoriali che fotografano la musica italiana a partire dalle classifiche degli ultimi cinque anni per fare un po' un riassunto di quello che è stato piuttosto che altri articoli a firma di Carlo Pastore, Paolo Madedu, insomma tutti i giornalisti e personalità della musica in Italia che sono abituati a riflettere e analizzare la foto macro di quello che sta succedendo e quindi abbiamo cercato di affiancare i dati che tra poco vedremo almeno alcune anticipazioni a considerazioni invece più analitiche per così dire, perché da un po' di tempo che si parla finalmente di export della musica italiana ma mancava un momento di riflessione, anche per capire dove siamo arrivati nei rapporti con le istituzioni, abbiamo qui un rappresentante del MAECI che è un ministero assolutamente attentissimo all'esportazione della cultura italiana nel mondo e nello specifico della musica e con il quale abbiamo iniziato un percorso veramente virtuoso direi, abbiamo trovato un partner molto attento e qui insomma anche mappare quali sono gli sforzi in termini di export perché esiste Italia Music Club, Italia Music Export ma esistono ben prima di noi altre realtà che hanno lavorato in questo campo cioè Fimi e tra poco Enzo ci racconterà bene quello che fanno con i tweak e tutte le altre manifestazioni in giro per il mondo ma ci sono Puglia Sound, Arezzo Wave, iniziative regionali, insomma volevamo fotografare in maniera quanto più precisa possibile che cosa si fa in Italia oggi per l'export della musica italiana Sembra un po' che il 2017 che poi è l'anno in cui appunto è nata Italia Music Export e poi al seguito Italia Music Club nel 2020 siano anni dal 2017 poi cruciali per le classifiche italiane che per il cambiamento del gusto abbiamo visto per un certo periodo fino a quel momento i grandi nomi italiani anche abbastanza diciamo un pochino âgè come artisti e poi improvvisamente aprirsi un varco delle nuove generazioni è un po' come mi viene in mente le classifiche degli anni 50, degli anni 60 quando i teenager facevano la musica i quasi teenager facevano la musica per i teenager ovviamente oggi il campo non è così grande perché se parliamo poi di problemi di nascite zero in Europa però se è mondiale e anche su piccolo italiano è interessantissimo questo dato dell'esplosione di teenager gli stessi manuskine sono molto giovani ed è un dato molto interessante vogliamo intanto vedere qualche piccola interazione sì 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 volevo anche ricordare a supporto di quello che ha detto Nora che è gradevole e piacevole da leggere questo report perché appunto è fatto quasi come io dirigo un magazine con degli editoriali e delle interviste molto interessanti mi permetti di dire qualcosa in più di questo report dalle considerazioni di Carlo Pastore che parte da un concetto che in realtà è rimasto un po' così in effetti sul gruppone nostro il fatto che la musica italiana sia a volte considerata pittoresca è abbastanza fastidioso devo dire io faccio parte di una generazione dove quando ero adolescente proprio giovanissimo stavano esplodendo Litfiba, Lavasco Rossi e ho immaginato che loro potessero essere veramente degli eroi anche della musica internazionale quando ero giovanissimo e sentirmi dire da un inglese che quella musica è pittoresca mi dava un po' fastidio però comunque abbiamo... le cose sono cambiate almeno negli ultimi 5-6 anni facciamo vedere adesso uno dei dati che si troveranno in questo report si tratta della classifica degli autori italiani under 35 che sono andati meglio almeno dal punto di vista del diritto d'autore all'estero perché dico dal punto di vista del diritto d'autore perché si tratta di dati SIAE che appunto è dietro la Fondazione Italia Music Club e tutta questa ricerca come potete vedere si tratta di artisti che sono al numero uno anche in Italia a prescindere dal fatto che stiano under 35 abbiamo voluto fotografare insomma questa cosa qui per far capire che cosa succede ma perché questo? perché in Italia c'è stata una rivoluzione negli ultimi 5-6 anni aiutata anche dalla maniera con cui si calcolano i dischi più venduti e magari adesso Enzo ce ne può parlare e negli ultimi anni quindi anche la percezione dall'estero è iniziata a cambiare di che cos'è la musica italiana quando abbiamo iniziato noi con Italia Music Export e andavamo dai nostri colleghi all'estero parlavamo con giornalisti stranieri i direttori di festival non sapevano dirci un nome di musica italiana se non quelli degli anni 80 e gli anni 90 i grandi ovviamente Gianna Nannini, Eros Ramazzotti, Laura Pausini cose un po' più recenti forse Tiziano Ferro Bocelli ovviamente però è un altro campionato diciamo rientra più nella musica percepita come opera come Bel Canto Bel Canto negli ultimi anni questa cosa è molto cambiata anche grazie ai Moneskin anzi con i Moneskin perdona con i Moneskin è cambiata diametralmente ma anche negli anni precedenti già c'erano i semi di un cambiamento quest'anno noi per la prima volta siamo Focus Country al Great Escape Festival in Inghilterra per chi non lo conoscesse è un festival è il festival del music business inglese si tiene a maggio a Brighton noi presidiamo questo festival da un po' di anni con degli showcase di musica italiana e quest'anno finalmente saremo Focus Country quindi la manifestazione sarà dedicata all'Italia e agli artisti italiani ho parlato però fin troppo darei magari la parola agli altri ospiti c'è anche il mio microfono c'è qua noi usiamo questo gruppo qua usa questo io ho intravisto dei dati che sono ampiamente rassicuranti un più 66% di entrate dalle reality se non sbaglio un consumo di musica italiana a livello globale che ha generato quasi 20 milioni di euro nel 2021 sono dati decisamente confortanti veniamo da un periodo pandemico che la musica ha risentito dal punto di vista del live del vivo del concerto ma come consumo e come anche supporto morale al periodo che abbiamo vissuto è stata molto molto importante sì diciamo che ci sono vari aspetti che avete anticipato prima di tutto il fatto che comunque la musica italiana è sempre stato un soggetto interessante perché è uno dei pochi paesi che ha espresso nella sua storia tantissimi generi musicali noi siamo abituati a parlare della musica anglosassone siamo abituati anche a vedere l'esportazione della canzone francese e di altri generi musicali pensate all'esplosione del K-pop in Corea cioè un paese che ha l'1% del PIL della Corea rappresentato dal K-pop però l'Italia ha avuto questa diciamo capacità nella sua storia di rappresentare i generi musicali molto diversi e di attraverso questi generi musicali raggiungere un pubblico molto vasto anche se ci sono stati come avete detto voi alcuni pregiudizi rispetto a determinati generi musicali però dobbiamo prendere atto che in realtà e questo lo dimostrano anche i dati che arrivano dello streaming la musica italiana ha un layer di base che in realtà è sempre disponibile parliamo dell'opera parliamo del jazz italiano della dance poi dei nuovi artisti degli anni 80 degli anni 90 quindi in realtà c'è sempre stato uno zoccolo duro che aveva una grossa difficoltà da fermarsi in un mercato fisico con le barriere quindi l'esportazione di musica era complicata evidentemente quando noi abbiamo iniziato con i tweak questo progetto realizzato da Fimi in collaborazione poi con l'Ice all'epoca si chiamava istituto per il commercio l'est adesso trade agency però in realtà è sempre l'istituto per il commercio l'est mi ricordo che effettivamente presentavamo degli artisti nuovi c'erano quegli artisti famosi diciamo che si presentavano attraverso anche Puglia Sound mi ricordo uno dei primi gruppi che furono portati negli Stati Uniti a Miami grazie a questa operazione Furni Bundabash adesso sapete chi sono tutti sanno chi sono all'epoca erano dei ragazzi sconosciuti del Salento che avevano vinto un concorso per andare all'estero attraverso i tweak tra l'altro c'è qui Francesco Del Maro che è la persona che ha seguito da sempre per Fimi questo progetto e che ha chiaramente un po' raccolto quelle che erano anche le sensazioni di questi anni complessi ma sicuramente interessanti in cui comunque sono stati portati dei generi musicali nuovi a fianco a quello che era già poi dico una cosa cioè l'Italia è stata così tanto importante nella storia della musica che non so se tutti sanno ma nel barocco gli stranieri cioè i grandi artisti stranieri venivano in Italia per imparare a fare musica e fare l'opera cioè qui si veniva per capire come si faceva come se noi andassimo oggi negli Stati Uniti per sapere come si suona il rock all'epoca tutti venivano qua andavano in Italia andavano a Venezia andavano a Napoli perché lì si sapeva come si imparava a scrivere l'opera barocca che all'epoca era diciamo il mainstream mondiale del mondo dell'epoca ovviamente quindi in realtà questo questa Italia musicale esiste da sempre adesso con quello che è accaduto negli ultimi anni grazie allo streaming chiaramente si sono amplificati si sono amplificati alcuni abbiamo avuto appunto dei casi eclatanti ma si sono amplificati tutte quelle che sono le possibilità che questo diciamo enorme patrimonio musicale di vari ripeto di vari generi ha davanti a sé il caso dei Moneskin che quando hanno vinto l'Eurovision il giorno dopo erano nelle classifiche di 36 paesi al mondo potete immaginare una cosa del genere durante l'era del prodotto fisico cosa sarebbe stato era impossibile portarli in poche ore in tutti i negozi del mondo e invece lì erano dalla Lituania alla Turchia alla Romania negli Stati Uniti poi in Inghilterra in Francia dovunque perfino in Australia quindi tutti quei paesi che avevano seguito questo evento improvvisamente si buttarono su questi e da lì chiaramente si capisce poi anche è anche quello che si vede in questi dati è interessante perché non ci sono delle punte ma ci sono tanti ci sono i featuring durante il Covid sono aumentati tantissimo anche i featuring con artisti stranieri chiaramente di italiani con artisti stranieri proprio perché magari a fronte di difficoltà anche di muoversi si cercava di fare maggiormente delle collaborazioni quindi siamo davanti diciamo a potenzialità enormi Enzo tu parlavi del barocco però voglio ricordare a tutti anzi me ne avevi detto tu fuori onda quando ci preparavamo per questo panel le colonne sonore italiane maestri delle colonne sonore italiane Morricone Nino Rota Umigliani ma anche i nuovi sono dei parametri importantissimi per le nuove generazioni dei compositori tedeschi americani inglesi qui c'è un nome semi sconosciuto un po' esotico Yakamoto Kotsuga ma lui scrive colonne sonore per Netflix per molte serie Netflix infatti alcuni dei nomi che non sono molto conosciuti penso anche a Michele Morrone al numero 7 è un attore e anche musicista che ha fatto diciamo una fiction su Netflix in Polonia ha firmato anche molte canzoni della colonna sonora ed è per questo che è così alto in classifica perché le colonne sonore ancora contano tanto così come contano tanto le playlist e quel numero 3 Deep Chills è un artista che fa Tropical House insomma delle playlist che vanno molto anche come sottofondo e quindi diciamo che quando si parla di export di musica italiana non c'è solo il grande artista che ci mette la faccia ma diciamo ci sono tante modalità diverse ci sono artisti come Davide Petrella che sono conosciuti all'estero e rispettati un mondo un sottobosco che magari in questo caso forse è un po' il rovesciamento molto rispettati all'estero anche di un certo seguito poco conosciuti forse dal mainstream italiano e forse tutto questo dà un equilibrio anche a questo a questo mondo estremamente coincidenzo di varietà e forse è la varietà ciò che è vincente per il futuro il nostro made in Italy è credibile quando dà qualità ma anche quando dà verità vediamo il caso storico della moda italiana quando negli anni 80 un plateau di diversi attori della scena e del tailoring vennero fuori nel nostro paese un legame se mi è possibile farlo subito la curiosità con l'Aliason e con il mondo appunto fuori dall'Italia come contribuisce all'internaziazione della musica italiana il ministero degli affari esteri della cooperazione internazionale il ministero contribuisce in vari modi ma essenzialmente in un modo solo che è quello di portare sui palcoscenici internazionali che partono da Nizza e arrivano a Ljubljana facendo il giro del mondo musica musicisti interpreti autori italiani e lo facciamo tradizionalmente in quei settori che storicamente sono riconosciuti come musica italiana dalla musica barocca dal madrigale fino al bel canto ma lo facciamo anche con le nuove proposte le nuovissime proposte con un obiettivo che è quello di provare a tra virgolette lanciare quantomeno far conoscere soggetti artisti interpreti che in Italia possono avere un momento di celebrità di notorietà e che magari all'estero non avendo vinto l'Eurofestival non sono balzati nel giro di una notte da zero alle classifiche in 3-5 paesi e quindi lo facciamo organizzando concerti per un pubblico generalista oppure per un pubblico ci capita di fare anche questo di esperti ai lavori di gente che lavora nelle radio che passa musica di organizzatori di festival di organizzatori di tournée lo facciamo in alcuni paesi dove questo è possibile anche creando ponti facendo cantare io sono io su un palco insieme artisti italiani con artisti siano essi musicisti o interpreti di quel paese perché magari ci proviamo a beneficiare di un effetto traino che il volto nostro non conosciuto non ha di cui ha bisogno di quell'effetto traino e poi grazie per i complimenti iniziali questa nostra attenzione viene da da questa osservazione che abbiamo quotidianamente di quanto sia importante la musica italiana citavi Morricone il giorno in cui purtroppo Morricone se n'è andato io ero a Brasilia e su Twitter da un giornalista italiano apprendo che era morto Morricone prendo un trailer della Fenice lo posto sul mio Twitter io non sono un influencer ho poche migliaia di followers e nel giro di tre ore in Brasile quel mio tweet è stato visto da diverse centinaia di migliaia di persone con un numero di interazioni positive sulla carriera e l'opera di Morricone che ti lascia sbalordito e faccio un salto di generazionale arrivo a Moneskin e la direttrice dell'istituto di cultura a Londra mi dice oggi la gente suona al campanello perché vuole imparare la lingua di Mariano de Moneskin ma infatti questa è una cosa interessante uno immagina molto manualmente in maniera forse fin troppo basic un istituto culturale di cultura straniera italiano in questo caso all'estero come un luogo semi chiuso poco permeabile dove magari arrivano un po' di italiani un po' di locali gente curiosa in realtà penso che sia anche per voi un pernur perfimi luoghi strategici per fare da ponte per esperienza e per capire anche quanto chi vive non so a Copenaghen o a Londra o a Barsiglia ci sia questo scambio di curiosità e di interesse in questo caso nei confronti di una scala cromatica modulata da un italiano l'interesse c'è ce n'è tanto e noi cerchiamo appunto di fare questa attività di promozione come dicevo prima articolandola non soltanto verso un pubblico generalista oggi francamente a noi interessa poco il pubblico degli espatriati italiani o degli scendenti l'italo qualcosa in giro per il mondo no abbiamo come obiettivo quello di creare e consolidare un target che sia il pubblico di quel paese tanto generalista quanto esperto di quell'area e poi con con loro abbiamo per esempio finanziato una delle cose che facciamo abbiamo creato un bando che rinnoveremo in cui aiutiamo a veicolare sostenendo una parte delle spese tournée di nel caso specifico jazzit e broad di jazzisti che possono andare in giro per il mondo a suonare e poi però ripeto spesso noi uno dei dei punti dei valori aggiunti che noi possiamo dare quando e spesso questo già c'è l'artista non abbia già un collegamento con il panorama artistico locale creare dei legami con artisti locali perché al di là dell'effetto moltiplicatore c'è un humus culturale che si fonda e verso il quale noi italiani siamo naturalmente predisposti e che è molto apprezzato in giro per il mondo questo non voler arrivare sul palco e adesso togliti che canto io ma dire vieni a suonare con me volevo aggiungere una cosa a quello che diceva Filippo adesso che effettivamente sia forse dall'Italia l'impressione degli istituti italiani di cultura come appunto dei luoghi dove magari si propone solo musica classica non lo so e invece questa cosa negli anni è cambiata non so se è sempre stata così però negli anni almeno di cui io posso testimoniare la situazione è completamente diversa noi solo a settembre quindi due tre mesi fa abbiamo lavorato con l'ufficio di Seul e l'ufficio di Hamburgo abbiamo organizzato concerti di musica italiana contemporanea rock elettronica insomma gli artisti erano vari e la cosa più assurda è stato vedere in Corea coreani impazzire per rock band o pop band italiane o addirittura milanesi e le direttrici dei due istituti sono state bravissime ed erano assolutamente ben contenti di dare anche una rappresentazione della musica italiana che fosse contemporanea e aggiornata quindi diciamo presentare anche una diversità che è quella che abbiamo poi non è che ci inventiamo nulla se mi permetti questo vale per tutto cioè noi appliciamo questa sera lo diciamo parlando della musica ma questa è una nostra priorità è portare in giro per il mondo la produzione artistica contemporanea italiana promuoviamo la street art promuoviamo la digital art promuoviamo il teatro di ricerca d'avanguardia perché è facile andare in giro per il mondo e trovare un attore che regge di pirandello il successo è assicurato riempi la sala ed è facile la sfida è raccontare interpretare testi contemporanei magari difficili magari conflittivi oppure far suonare artisti di musica elettronica quando ci si aspetta il bel canto Donizzetti Rossini Vivaldi e questo oppure andare in giro per il mondo a portare la street art quando siamo il paese di Michelangelo Raffaello della Francesca lo siamo lo rimaniamo ma abbiamo una contemporaneità anche perché c'è un ruolo di promozione dell'industria culturale che abbiamo a cuore senza dubbio parlando con Francesco al telefono Francesco Pasquero che è qui presente per Maverick e segue Bocelli mi è sembrato veramente tu sei un globetrotter completo e ti invidio tantissimo perché grazie a Bocelli grazie alla sua musica tu vai ovunque nel mondo da Dubai improvvisamente a Londra New York City mi interessa sapere da parte tua al di là del del perimetro dell'eccellenza creata da Bocelli che cosa senti anche di percezione della sensibilità delle persone dell'essere confronti del mondo musicale italiano se hai sentito e se hai percepito qualcosa di interessante di nuovo il caso Bocelli come dicevamo nella sessione precedente è un caso più unico che raro rappresenta esattamente quello che ha appena detto Filippo mi permetto di dare del tu perché rappresenta proprio la tradizione quello che l'estero il famoso estero di cui discutevamo prima si aspetta da un artista italiano l'eleganza la raffinatezza la parte operistica però più contemporanea eccetera eccetera quello che è cambiato tantissimo negli ultimi cinque dieci anni è il modo in cui questo è stato percepito cioè mentre prima era un po' richiesto adesso è categorico cioè l'unicizzazione della tua proposta artistica è quello che ti rende unico rispetto ai vari competitor che di cui parlava anche Enzo come possono essere le pop star americane o i nuovi fenomeni coreani o sudamericani e nell'italianità nell'italiano rappresenta un po' il tuo unicum quello che ti permette di andare fuori senza perdere la tua matrice distintiva la cosa importante sarà come riuscire a traghettare questa tradizione nel futuro senza perdere però di vista il fatto che la lingua italiana è ammirata da tutti ma la capiscono ancora in pochi nonostante abbia letto recentemente che è diventata la quarta lingua più studiata al mondo sorpassando anche il francese quindi è un è un buon segnale però il fatto che le ragazzine o i ragazzini al giorno d'oggi vadano a chiedere all'istituto italiano di cultura di studiare la lingua dei Moneskin è una bellissima cosa che non sia soltanto dovuta al nessun dorm ma anche al nuovo singolo dei Moneskin il caso Bocelli però conferma ancora una volta che quando c'è la sostanza alla base della proposta artistica in qualche modo comunque si arriva esattamente come paradossalmente come il caso dei Medusa come il caso dei Moneskin come il caso anche di Sfera di Blanco che comunque hanno fatto dei numeri fuori che sono veramente importanti quindi cambia tutto ma in realtà si stanno rafforzando un po' gli asset base della proposta artistica quindi l'unicità da cui uno parte per andare fuori Enzo volevo chiederti leggendo i dati analizzandoli con la tua capacità la tua competenza hai trovato qualcosa di nuovo al di là della crescita al di là anche questa cosa delle classifiche che ricominciano ad essere dominate dai giovani che ti ha sorpreso che ti dà anche maggiore speranza o anche qualcosa veramente di nuovo in vista di un orizzonte futuro prossimo nei prossimi due o tre anni ma in realtà quello che è stato più sorprendente è stata la velocità con cui si è consumato questo cambiamento generazionale che credo che sia qualcosa dicevo l'altro giorno credo rispondendo a un articolo su un giornale noi siamo un paese vecchio tendenzialmente è percepito come un paese anziano lo vediamo nella politica lo vediamo nell'industria lo vediamo in tanti settori il ricambio è un ricambio che avviene molto lentamente nella musica come avevi già accennato prima noi abbiamo visto negli ultimi dieci anni un cambiamento epocale nel senso che dico questi numeri che abbiamo già detto qualche volta cioè 35% di calo dell'età media in top 10 tra il 2011 e il 2021 nel 2019 l'età media di un artista in top 10 era 36 anni nel 2021 26 abbiamo artisti di 18 anni che arrivano al primo posto in classifica in Inghilterra o in un altro paese avremo le prime pagine dei giornali su una cosa del genere qui ovviamente sento dire da qualche artista si dà troppo spazio ai giovani artisti consolidati che anche di recente hanno fatto affermazione del tipo non capisco perché ci sia questa grande attenzione verso questi artisti influencer è come se fosse un messaggio negativo ecco quello che mi ha sorpreso è una fortissima affermazione di giovani legata soprattutto ai fan cioè questa è una rivoluzione come tutti sappiamo che è una rivoluzione avvenuta bottom up avvenuta dal basso non è una rivoluzione guidata dall'altro una rivoluzione in cui i generi musicali nuovi sono esplosi e sono diventati mainstream nonostante tutta una serie di elementi fossero contro cioè c'erano un impianto dei media che tendenzialmente non dava spazio a questi giovani io ho visto per anni i giornali avere l'articolo di punta quando uscivano due dischi c'era l'artista noto tradizionale over 40 tendenzialmente ma anche over 50 o 60 mezza pagina dedicata all'uscita del disco in un piccolo angolino c'era una breve in cui dice ah by the way è uscito anche il nuovo album di quest'artista X non faccio nomi così non settimana dopo le classifiche l'artista con la mezza pagina non era nei top 100 il piccolino era al primo posto nelle radio mancava addirittura il brano di quell'artista lì dovevano andarselo a scaricare prima su iTunes per mandarlo in onda perché nessuno sapeva chi fossero però se andavate a vedere e parlare con i ragazzini questi artisti avevano milioni di visualizzazioni su YouTube e miliardi di visualizzazioni o milioni di ascolti sullo streaming senza che nessuno avesse mai percepito nei grandi media che ci fosse questa quindi questo è stato un cambiamento dirompente di cui dobbiamo al di là dei generi musicali dei gusti personali che restano comunque ognuno ha i suoi ma è una una cosa dirompente che credo che che continuerà per anni perché la velocità con cui cambiano le cose è importantissima e dietro al credo che oggi abbiate fatto l'incontro sui Moneskin con Andrea e chiaramente anche quello è un caso unico come dicevi tu per Boccelli siamo in presenza di una cosa abbastanza un insieme di elementi che è stato però è un un modello indipendentemente dal genere musicale dico è un modello che aiuterà tanti altri artisti a cercare di sfondare cioè è un aspetto di così positivo che ti dice beh ce la possiamo fare cioè non è vero che che non si può fare no cioè possiamo farci ci sono una serie di elementi che si mettono insieme che sono questi cioè la capacità delle nuove tecnologie di sfondare le barriere di dare potenzialmente un qualsiasi artista può diventare abbiamo visto in paesi c'è stato un momento in cui la musica non so se qualcuno ha letto la storia della musica colombiana la musica colombiana ha generato degli artisti che hanno avuto successo in tutto il mondo negli ultimi anni è un paese piccolino con quattro artisti però top che sono entrati nelle classifiche internazionali e quindi oggi può succedere di tutto quindi questo è anche la grande opportunità e secondo me molti artisti italiani che noi non conosciamo ancora saranno i grandi artisti del futuro come sta accadendo con altri paesi che che pochi di noi frequentano la musica africana sta esplodendo in Inghilterra in Francia perché sono generi musicali che sono nati con una tradizione ma che adesso stanno diventando famosi perché come dicevo ci sono le tecnologie ci sono le disponibilità per diventare non è detto che i futuri artisti top a livello mondiale siano artisti di Manchester o artisti di New York o artisti ma potrebbe venire da Ouagadougou come potrebbero venire dal sud est asiatico mi fai evidentemente una cosa che è successa quest'estate intervistando via zoom purtroppo Brian Eno e chiedendogli ma trovi interessante ed eccitante la musica di oggi e lui ha detto è forse il momento migliore storico perché tu puoi fare la musica la tua cameretta metterla in rete e avere un successo straordinario lui ha fatto il caso di Gerusalemme un brano sudafricano per l'appunto e dice ognuno ha una chance oggi a differenza del passato che c'era una filiera la discografica gli studi di registrazione molto cari il produttore quindi e tutto questo però come diceva lui deve essere una cosa unica cioè deve avere quella capacità di fare qualcosa di veramente tutto questo è estremamente eccitante per voi perché la meglio gioventù che venga dalle periferie che venga da qualunque luogo da istrazione sociale per Italia Music Club è hummus sì 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 ma io sono veramente molto d'accordo con tutto quello che ha detto Enzo adesso e sono d'accordo anche col fatto che ci vuole il caso straordinario ci vuole il talento straordinario però è altrettanto importante che gli addetti ai lavori e le istituzioni lavorino in quella direzione lì per il caso della musica africana per esempio noi siamo in contatto con l'istituto di cultura di Dakar e con lice di Dakar per la Dakar Music Week che si terrà a febbraio e per fare dei songwriting camp tra artisti italiani e artisti del posto e credo è un'altra cosa molto giusta che ha detto Enzo che il caso Moneskin abbia dato un esempio positivo ma non solo ai nostri artisti che pensano effettivamente di potercela fare perché magari artisti con voglia di avere successo all'estero in Italia ce l'abbiamo sempre avuti ma secondo me ha dato fiducia proprio agli addetti ai lavori in Italia e all'estero quando noi abbiamo iniziato con Italia Music Export ormai 5 anni fa c'era molto scetticismo diciamo che ci guardavano un po' non dico prendendoci in giro anche perché insomma ragazzi giovani non è che ci prendevano molto sul serio a distanza di 5 anni invece stiamo lavorando veramente con chiunque perché mano a mano hanno capito anche in Italia ma anche all'estero che è fattibile che non è una cosa assolutamente si può fare si può fare ci vuole talento senza dubbio ci vuole una congiunzione astrale per usare le parole di Andrea Rosi che prima parlava dei Maneschi quindi ci vuole anche fortuna ma ci vuole anche lavoro perché tu puoi avere l'artista migliore del mondo ma se non lo lavori all'estero se non è una strategia e se non non studi perché ci vuole anche tanto studio questa cosa qui non accade con il supporto delle istituzioni diventa tutto più semplice perché nel momento in cui hai una rete di istituti italiani in tutto il mondo degli strumenti utili come il bando di cui si parlava prima quindi anche dei rimborsi spese perché quello diventa anche uno svantaggio competitivo se non c'è questo tipo di risorsa perché nel momento in cui un artista francese è supportato dallo Stato diciamo dal governo francese viene da decenni in Francia esatto quindi se un artista francese è supportato per il tour all'estero riceve finanziamenti per la produzione di dischi riceve finanziamenti ha un vantaggio competitivo di base enorme rispetto a un artista italiana quindi sono tutti gli aspetti assolutamente da non sottovalutare e ci vuole diciamo una collaborazione generale per arrivare ad un risultato del genere che nel caso dei Moneskin è stata veramente pazzesca ma io sono abbastanza positiva sul fatto che si possa costruire anche in maniera meno fortunata ma più studiata un successo simile beh poi sul rigore sulla disciplina Bocelli è un maestro al di là del suo talento enorme al di là del grande talento la disciplina e il rigore di Bocelli è un insegnamento anche per le prossime più che disciplina come diceva adesso anche Nur il fatto che comunque nonostante abbia venduto 90 milioni di copie adesso stiamo lanciando abbiamo lanciato adesso questo nuovo progetto discografico in trio con Matteo il figlio e Virginia la figlia che si chiama Family Christmas ma per presentarlo al mondo lo stiamo lavorando nel mondo cioè domani noi partiamo per lavorare la Germania abbiamo fatto il lancio adesso l'Italia domenica e lunedì poi ci trasferiamo in America praticamente per un mese e questa è la base sulla quale abbiamo costruito una campagna marketing per la quale sono molto fiero ma coinvolgendo dei partner assoluti tipo YouTube mondo dopo il successo che abbiamo avuto due anni fa durante il Covid dove abbiamo fatto questo speciale dal Piazza del Duomo che è stato un benchmark incredibile come diceva per i Maneskin una congiunzione astrale ovviamente lì era un momento molto triste con i Maneskin un momento molto felice però abbiamo trovato un partner che ci ha supportato per dare una voce un volto al momento della tristezza trasformandolo in un momento epico stessa cosa adesso lo rifacciamo sempre con YouTube il 4 dicembre con un'anteprima mondiale lanciando questo nuovo speciale che abbiamo fatto dalla Valle d'Aosta ma senza la struttura senza l'ecosistema attorno un numero uno come Bocelli farebbe fatica quindi ben venga che l'Italia prenda anche spunto dagli altri casi soprattutto il caso francese dove non solo invoglia l'artista nuovo a lavorare il francese come lingua madre ma lo protegge con le quote in radio ad esempio un esempio che porto sempre alla luce per rendere un po' l'esempio quando abbiamo fatto prima quando lavoravo in Sugar il progetto di Raphael Gualazzi in Francia l'abbiamo siglato sulla Warner Music France automaticamente siccome era siglato con la music con la Francia poteva rientrare all'interno di determinate categorie delle quote radio francesi perché era un prodotto culturale francese percepito in Italia non c'è questo aiuto però non c'è nemmeno bisogno perché è già tutto italiano nella musica italiana però in che senso no nel senso che se un artista nuovo si affaccia al mercato radiofonico italiano e ha già una quota di protezione entro cui il 50% della musica italiana o il 60% della musica italiana deve essere per forza tutelata e spinta potrebbe essere un incentivo per aumentare ancora di più il consumo oggi sì oggi sì oggi fortunatamente prima no secondo me sarebbe interessante a livello europeo c'è una quota di musica europea a livello europeo visto che siamo anche molto dominati dalla musica americana nella commissione europea qualche anno fa ha pubblicato uno studio compilato dagli uffici export europei tra i quali il nostro e tra i findings di questo studio usciva fuori che la quota di musica europea nei mercati europei era bassissima tipo delle? intorno al 15-20 cioè nel senso noi ascoltiamo poca musica francese tedesca spagnola danese svedese c'è ancora questo grosso preconcetto sul fatto che una canzone pop bella tedesca in Italia è difficile che faccia successo anche se abbiamo avuto artisti negli ultimi anni Alice Merton e tantissimi altri artisti francesi che da noi però cantando eventualmente in inglese cari amici ci stiamo scaldando come se fossimo un concerto gli artisti di solito quando arrivano a metà del set cominciano veramente a tirare meglio di se stessi ma questa è la Milano Music Week benvenuti ben trovati continuate a seguirla e questo panel per questo panel ringrazio Enzo Mazza un applauso Loura Rabash Francesco Pasquero Filippo La Rosa e grazie a voi di essere venuti qua grazie a voi grazie a voi grazie a voi